Quanto mi rende allegro Gesù, quanto è soave il suo spirito, ma io mi confondo e non riesco a fare altro se non che piangere e ripetere Gesù, cibo mio, non si odono che vagiti e pianto del Dio Pargoletto e con questo pianto e con questi vagiti egli offre la divina giustizia il primo riscatto della nostra riconciliazione. Per il sì libero e generoso pronunciato da Maria nel momento dell'annunciazione, noi ti ringraziamo, Gesù. Perché per mezzo di Maria ti sei fatto uomo e sei divenuto nostro fratello, noi ti ringraziamo, Gesù. Perché hai associato la madre tua a tutto il mistero di redenzione e di salvezza degli uomini, noi ti ringraziamo, Gesù. Perché ci hai dato la madre tua come nostra madre amatissima, noi ti ringraziamo, Gesù. Disponi, oh Padre, i nostri cuori a ricevere nel Tempio vivo della Chiesa la tua misericordia. Perché la nuova nascita del tuo figlio ci liberi dalla schiavitù del peccato e ci renda degni di partecipare alla ricchezza della tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie a tutti.